Operazione antidroga Battipaglia. Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia agli ordini del vicequestore Giuseppe Fedele hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due pusher per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione domiciliare effettuata a casa dei malviventi sono stati rinvenuti 448 grammi di hashish e 37 grammi di cocaina, nonché 1.355 euro in banconote di piccolo taglio e materiale per il confezionamento degli stupefacenti. La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro dai poliziotti, mentre sono ancora in corso le indagini per individuare chi ha fornito gli stupefacenti ai pusher. Nel frattempo la polizia sia in centro che in periferia ha intensificato i controlli antidroga per evitare che vengano smerciati stupefacenti ai ragazzi minorenni.